In 1985, durante un congresso delle Nazioni Unite, il colonnello statunitense Jordan Copper, che fu uno dei primi astronauti ad fare l'orbita intorno alla Terra, rilevò che secondo lui c'erano degli extraterrestri che orbitavano sulla Terra con delle astronauti e che lui stesso gli avrebbe visti. Tale dichiarazione lasciò di stucco l'intera Commissione delle Nazioni Unite, che era preseduta dal segretario generale Kurt Wildein, che avviò un piano per raccogliere nove di quanto affermato dal colonnello Gordon. Lo stesso lo disse di essersi trovato in orbita nella zona dello spazio in cui viaggiano quegli esseri già nel 1951. Copper avrebbe osservato due astronavi aliene in volo. Erano di varie dimensioni, schierate in formazione di attacco e viaggiavano a una volta così alta che nessun aereo lì a quell'epoca poteva andare.